Rebote Padball Club di Arezzo apre le proprie porte per un Open Day domenica 10 novembre. Cosa è in programma per questa giornata? Grazie alla Wisp abbiamo promosso questo evento perché già avevamo tanti clienti che venivano dalla Wisp e che giocano correntemente quindi abbiamo pensato di fare questo Open Day per farlo conoscere a un bacino di utenza che fondamentalmente è del calcio a 5 o 11 e che quindi può essere interessato a questo nuovo sport e cercare di farglielo conoscere. Quali sono anche le fasce orarie e le coordinate di questa giornata? Sì verrà fatto domenica dalle 10 alle 18 e 30 saremo noi presenti tutti gli istruttori in modo da coordinare tutte le persone aiutarli con le regole farli giocare divertire magari organizzare anche qualche mini torneo se viene proprio una squadra intera della Wisp. Il Padball può essere definito in gergo un'evoluzione del calcio tennis ma in realtà nasce dalla fusione di più discipline sportive ed è sicuramente un'attività propedeutica a chi pratica calcio e calcio a 5. Questo nuovo sport praticamente fonde il calcio, il padel e anche il volley quindi di conseguenza si vanno a sviluppare tutte quelle capacità che poi anche nel mondo del calcio specialmente ci si ritrovano in campo quali la tecnica, la velocità di pensiero, quindi l'aspetto cognitivo e anche la coordinazione.